Vi presento un esempio di progetto in Google Earth dal sito Google Earth molto utili per la didattica, per percorsi sia urbani che interurbani potete raggiungere Earth in due maniere o digitando Earth nella casella di ricerca di Google e andrete in Google Earth oppure, adesso apro una nuova finestra e vi faccio vedere che è pure raggiungibile dalle app di Google questo è dei puntini fate scorrere la casella e cliccate su Earth quindi potete aprirlo anche da lì vi farò un esempio breve di come progettare un percorso il punto di partenza sono i progetti che trovate nella barra laterale sinistra andiamo ora a vedere come fare buonasera sono Laura Antichi creiamo ora un nuovo progetto con Google Earth ci troviamo nell'interfaccia dell'applicazione e andiamo a esplorare l'icona progetti questi sono i progetti esistenti noi vogliamo però creare un nuovo progetto nuovo progetto crea progetto su Google Drive questo significa che nel momento in cui prepariamo predisponiamo un nuovo progetto automaticamente sarà salvato anche nella nostra cartella Drive e avremo a disposizione quindi una presentazione da poter condividere dall'applicazione potremmo anche voler aprire il progetto da Google Drive e per modificarlo noi andiamo in crea progetto su Google Drive mettiamo il nome del progetto cliccando su modifica progetto perché il progetto è senza titolo e quindi qui scrivo il nome aggiungo una descrizione zona balneare e molto altro poi andrò a modificare eventualmente per mostrare come si fa ho qui la possibilità e quindi di aggiungere un nuovo elemento vado in cerca per aggiungere un luogo e cercherò nella casella di ricerca quindi Catanzaro video come vedete mi riporta nel posto cercato e mi dà una casella un riquadro con la spiegazione di che cosa si tratta quindi mi dice Catanzaro Lido ecco artiero costiero di Catanzaro con 12.385 abitanti è il quartiere più popoloso della città e ti dà anche un riferimento a Wikipedia per l'approfondimento andiamo in aggiungo al progetto posso nella casella che mi si apre ora alla vostra sinistra in sostituisci con sostituisci sostituire l'immagine cioè mettere un'immagine di mio gradimento ricerco l'immagine potrei caricarla dal mio computer collegarmi a YouTube e caricare un video YouTube sulla città o da Google Drive o dalle tue foto o da URL e vado in Google ricerca immagini tanto per accorciare il nostro percorso e scrivo Catanzaro Lido la ricerca mi dà alcune immagini ne scelgo una adesso ne scelgo una a caso scelgo questo seleziona e sotto posso scrivere dare una descrizione questo è il mio luogo di vacanza o quello che voglio acquisisci questa vista ok vado a vedere l'anteprima e vedete che mi dà come anteprima l'immagine che ho scelto e quello che ho scritto ritorno quindi al mio progetto e vado ora posso anche andare ad aggiungere un nuovo elemento in questo caso voglio aggiungere un'immagine che poi in Google Drive mi rappresenterà l'oggetto del mio percorso e quindi andrò a scegliere diapositiva a schermo intero qui di nuovo in Google ricerche immagini potrò scrivere sempre sempre fate andare un lido e sceglierò l'immagine di copertina che dopo potrò va bene scelgo una qualsiasi anche qui e questa magari seleziona e questa scriverò il titolo positiva immagine di copertina e sposto e si e sotto un boh scrivo una panoramica poi si può sempre riprendere acquisisci questa vista bene ritorno quindi vedete che ho l'immagine di copertina qui questa immagine di copertina essendo volendola mettere sulla prima slide l'ho messa adesso per farvi vedere che la posso spostare sopra qualsiasi elemento io aggiunga lo posso poi rispostare ancora vado in presenta per vedere l'effetto di quello che ho fatto in effetti ho l'immagine di copertina e poi il catanzaro lido ritorno indietro quindi ho fatto due slide praticamente e a parte il titolo e vado ora ad aggiungere un nuovo elemento e questa volta metterò traccia linea o forma per vedere un'altra quindi vista per vedere un'altra potenzialità vado con il selezionatore a marcare esempio qui marco cliccando due volte marco tiro la linea guardate tiro la linea e vado a marcare questo pezzo di lungomare cliccandoci come vedete su e scriverò qui qui metterò un'immagine adesso non sto tanto cercarla sempre lungomare di ad aggiungere Lido cerco l'immagine e ne scegliamo una anche abbastanza casualmente esempio questa che sono già messa ma va bene questa e sotto scriverò un tratto del lungomare vado ora a dare il titolo al percorso che non ho ancora messo quindi metterò tratto di lungomare ripetuto acquisisci questa vista bene andiamo quindi in anteprima e vediamo che mi dà il tratto del lungomare come ho messo tutto prima ritorno indietro e quindi avete visto che ho fatto l'immagine in copertina catandaro Lido e il tratto di lungomare potrei ora questo progetto potrei continuare il progetto ad esempio utilizzando anche l'omino di street view ad esempio mi posiziono in un punto ad esempio del colomino di street view mi riporta a un'immagine del del porto benissimo quindi questo tratto di street view vado in sempre il nuovo elemento acquisisci l'ho già acquisita la scena di street view e salvo dovrebbe essere venuta vediamo se è venuta o no la devo rimettere va bene acquisisci scena in street view che acquisisci questa vista potrei mettere anche l'immagine un'immagine qui acquisisci questa vista bene ora che ho acquisito anche questa vista metto quindi qui nel segno posto senza titolo il visualizzazione bene acquisisci questa vista ancora perché ho cambiato il titolo tra i metri l'immagine in una solita maniera eccetera lascio così e vedete che ho creato le pagine ora devo solo condividere il progetto attenzione condividi il progetto quindi mi da sicuramente posso aggiungere persone gruppi e posso anche copiare mi dice copia il link e posso cambiare in chiunque abbia il link che può chiunque navighi su internet e abbia questo link può visualizzare questo elemento come visualizzatore e qui andrebbe anche bene se voglio però condividere in scrittura ossia che altri ad esempio gli studenti modifichino questo dovrei mettere editor però questo non è una bella cosa perché poi rimane aperto tutti gli utenti di internet ed è una cosa che non voglio mi conviene aggiungere allora quando aggiungere le persone i gruppi a questo percorso se voglio che venga da loro modificato quindi cambio e metto che chiunque magari navighi su internet sarà un visualizzatore fine ok quindi qui mi dà la possibilità di condividere questo link perché poi mi viene restituito il link con copia link per poter darlo in visualizzazione alle persone se voglio condividerlo in scrittura è meglio che metta le persone i gruppi con cui voglio lavorare insieme quindi abbiamo realizzato un progetto che si chiama Catanzaro Lido l'abbiamo bozzato ed è resta a noi ora andarlo modificare e completare l'abbiamo l'abbiamo Grazie a tutti.